Come saranno le acconciature sposa 2022? I trend parlano chiaro, i capelli per il matrimonio devono essere naturali e capaci di esprimere al meglio la personalità della sposa. Via libera raccolti e semi raccolti, morbidi chignon, code basse, trecce di lato, torcon ma anche capelli sciolti, leggeri e fluenti. Se ti sposi quest'anno sai bene che l'acconciatura è uno degli aspetti più importanti per il look del matrimonio. Va scelta in base alla forma del viso, al tipo di abito e scollatura, al velo, se presente, e alla location dove si terrà l'evento. Dal raccolto morbido al semi raccolto, dall'occhignon da principessa alle acconciature con treccia laterale, ti aiutiamo a scegliere quella che fa per te. In questa gallery troverai cento e più idee tutte da sfogliare per individuare lo stile che desideri per i tuoi capelli e conoscere meglio le tendenze capelli sposa dell'anno. Indice Acconciature sposa capelli lunghi 2022 Acconciature sposa per capelli corti e medi 2022 Capelli semi raccolti e raccolti Sposa acconciature Sposa semplici pronta a lasciarti ispirare? Iniziamo subito. Acconciature sposa capelli lunghi 2022 I capelli lunghi si prestano molto bene alle acconciature da matrimonio perché versatili e adatti a qualsiasi tipo di decorazione, forme e stile. Che siano lisci, con onde o ricci, possono essere lasciati sciolti per un look romantico in puro stile boho chic con un retrogusto. Vintage che non guasta mai Se preferisci lasciare i tuoi capelli lunghi liberi da ogni tipo di raccolto, puoi giocare con le decorazioni e gli accessori gioiello. Che daranno un tocco di luminosità alle lunghezze e valorizzeranno ulteriormente il taglio. Via libera agli elastici gioiello, a spille, fermagli con perle o svaroschi, diademi, corncine con fiori freschi o finti e applicazioni in strass. Raccolti e semi raccolti da sposa sono perfetti per queste lunghezze importanti. I raccolti per capelli lunghi sono eleganti, semplici e romantici nonché voluminosi, importanti e di grande effetto. I semi raccolti valorizzano ulteriormente le lunghezze grazie alle trecce, da sempre amatissime nelle acconciature per sposa con treccia. Anche in questo caso puoi scegliere di applicare dei fiori, delle piccole applicazioni gioiello e far sì che le ciocche lasciate libere ai lati possano incornicere dolcemente il viso. I capelli lunghi sono perfetti per le acconciature sposa con velo, per un matrimonio romantico, da favola. Ti sposi in autunno? Leggi anche gt. E virgola acconciature sposa autunno, hai il look più belli e romantici e all'e ti, acconciature sposa per capelli corti e medi 2022. Diademi, tiare, cerchietti floreali e coroncine ma anche accessori per acconciature sposa personalizzati, è tutto ciò che ti occorre per valorizzare il tuo taglio corto che non ti impedisce di ottenere un look elegante e raffinato. I tagli corti sanno essere sofisticati ma anche grintosi, glamour e alla moda come puoi vedere in queste immagini. Se invece hai un taglio di capelli medio con lunghezze sopra le spalle e preferisci la praticità, scegli un'acconciatura semplice. Un esempio? La coda bassa è sempre un must per le spose. Legala con fiocchi in seta o raso abbinati al bucchè o all'abito o adornala con un diadema che sprigioni tutta la tua bellezza. Un altro grande classico è la coda di cavallo con twist, assolutamente fantastica nella sua semplicità. Puoi anche lasciare i capelli sciolti o optare per un delicato effetto torcon. La regola è sempre la stessa, lasciarsi ispirare liberamente, senza vincoli di sorta. Capelli semi raccolti e raccolti sposa sono belli, eleganti e senza tempo. Raccolti e semi raccolti valorizzano i tagli lunghi e medi, addolciscono i tratti dell'incarnato e sono perfetti per qualsiasi tipo di abito da sposa, da quello molto scollato a quello con collo alto. Il semi raccolto è una via di mezzo tra i capelli raccolti e quelli sciolti. Le acconciature semi raccolte sono il mix ideale tra uno stile informale e uno più chic, consigliate soprattutto se vuoi essere elegante, senza risultare troppo formale. Il semi raccolto è perfetto se hai i capelli lunghi e non vuoi rinunciare a tenerli sciolti nel giorno più importante. È morbido, raffinato ed estremamente romantico. Può essere laterale o morbido e gioca molto con morbidezza e volume. È un'acconciatura sposa versatile, si può portare in diversi modi, esiste il semi raccolto con treccia, il semi raccolto con torcon e il semi raccolto semplici con fiori freschi o finti tra i capelli e accessori per acconciatura sposa preziosi o semplici. L'acconciatura raccolta è da sempre amata perché molto elegante e fiabesca. Il raccolto è semplice ma voluminoso, spesso caratterizzato dalla presenza di trecce. Può essere bombato e voluminoso ma può avere anche un effetto spettinato molto naturale. Sta bene nelle acconciature sposa con frangia perché tende, appunto, a risaltare la frangia e gli occhi, rendendo il look veramente molto romantico. Sia le acconciature semi raccolte per sposa che quelle raccolte sono l'ideale se si amano le linee morbide, le pettinature messi e le acconciature sposa con fiori. Sono però fattibili solo sui capelli lunghi dunque se hai un taglio corto ti consigliamo di applicare dell'extension o far allungare i capelli. Acconciature sposa semplici La parola d'ordine per le spose 2022 è una soltanto naturalezza. Se non ami le acconciature particolari e punti sulla semplicità, se vuoi che gli sguardi siano tutti per il tuo abito e vuoi sentirti a tuo agio senza stravolgere la tua personalità, con queste idee vai sul sicuro. Capelli sciolti o raccoti morbidi, onde leggere o una cascata di ricci sotto diademi preziosi e con corncina floreale. È davvero l'imbarazzo della scelta. La più amata delle acconciature semplici rimane il racconto morbido, sta bene a tutte, valorizza ogni tipo di abito e scollatura nonché l'ovale. Merito di quelle ciocche che, morbide, incorniciano il volto quasi accarezzandolo e rendendo il tutto speciale. Magico La semplicità ti permette di sfoggiare i capelli naturali, leggeri, liberi di muoversi nel vento, per un effetto naturale ma sempre di grande effetto. Speriamo di esserti stati d'aiuto nella scelta dell'acconciatura per il giorno del sì e che tu abbia scelto lo stile più adeguato alla tua personalità. Se questa guida ti è stata utile e ti è piaciuta, dici la tua, quali sono le tue preferite? Meglio un'acconciatura semplice o elaborata? Ti aspettiamo nei commenti. Potrebbe interessarti anche Unghi sposa 100 più idee per la manicure del matrimonio 10 make up Sposa da provare durante il tuo giorno Speciale 20 nuove acconciature da sposa con accessori per capelli medi Ecco cosa fare se piove il giorno del matrimonio Sposa da provare durante il tuo giorno Grazie a tutti.